Ed ora la rubrica lo dico al TGR Abruzzo. Le segnalazioni ci portano sulla strada parco fra Montesilvano e Pescara dove sono sempre presenti le barriere architettoniche. Poi andiamo all'Aquila per un'ordinanza sul cimitero monumentale e infine a Civitella Casanova, vittima della burocrazia della ricostruzione. Vediamo con Alberto Braccili. C'è un viadotto costruito e poi fatto brillare. Nessun'auto è passata lì. C'è un carcere mai aperto dove le caprette si nutrono. Detenuti mai. E poi la diga di Bisenti costata miliardi di lire ma non è mai partita. E l'Abruzzo delle incompiute. La lista rischia di allungarsi. Siamo sulla strada parco tra Montesilvano e Pescara. Qualcuno la vorrebbe polmone, qualcuno filo via. Sono stati spesi 32 milioni di euro sino ad ora. Ma avete già visto Claudio Ferrante di carrozzine determinate salire da Via L'Aquila e rischiare di ribaltarsi. E poi l'accesso allo scivolo che punta. Ma questo è il pezzo forte dell'abbattimento delle barriere architettoniche che non si è verificato. È costato fior di milioni. Qui è tutto fuori legge. Non hanno rispettato le norme nazionali e internazionali. Qualcuno è intervenuto però. C'è una data settembre 2013. Che cosa è successo? Intanto sono anni che denunciamo questa violazione dei diritti umani. A settembre 2013 il Comitato Via della Regione Bruzzo ha imposto le prescrizioni per l'eliminazione totale delle barriere architettoniche per la strada parco. Quindi 3 più 2, 5 sono 5 mesi e tu hai avuto notizia? Assolutamente no. La cosa vergognosa è che non abbiamo visionato progetto di variante per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'unica cosa che ha fatto la GTM e che doveva far per primo abbattere le barriere non le abbattute ha semplicemente potato le piante. Perché abbiamo parlato all'inizio di un'opera incompiuta? Perché dopo 32 milioni di euro spesi oggi bisogna trovare altri milioni per abbattere e ricostruire.